Papa Benedetto XVI elevò la chiesa di Acesan Filippo, madre di tutte le Aci, a Basilica, un gesto che la comunità parrocchiale, molto apprezzato e il clero, ha ricambiato con l'intitolazione del Museo di Acesano a Papa Benedetto XVI, il primo spazio museale che si estende in verticale dell'isola e che custodisce la storia e lo zucchetto donato da Papa Reitzinger, esposta in una teca insieme ad altri oggetti sacri nel secondo anello della Torre Campanaria Museo, la prima in Sicilia dedicata ad un pontefice in vita, tanto che per l'occasione nella borgata catanota arrivò il segretario di Reitzinger, Georg Gadswein, ad accompagnarci nel Museo il parroco della Basilica, Don Roberto Strano, un'apertura fuori programma in considerazione del momento di mestizia per gli ecclesiastici e i fedeli di tutto il mondo colpiti dalla morte del Papa Emerito, il cui ricordo resterà per sempre cristallizzato negli oggetti che donò in segno di gratitudine alla cittadinanza. Fu lui il 19 gennaio del 2009 ad elevare questa insigne chiesa che di tutte le acce madre e capo a decorarla con il titolo di Basilica minore pontificia a seguito della richiesta del Vescovo del Tempo Monsignor Pio Vittorio Vigo e successivamente quando venne ad essere realizzato questo museo, l'unico di Sicilia verticale perché si sviluppa all'interno del campanile, come segno e attestato di gratitudine ma anche perché illuminati dal suo luminoso e fecondo ministero papale e magistero fu titolato Papa Benedetto e in esso si conservano una stola con il suo stemma pontificio e uno zucchetto che fu consegnato personalmente dall'attuale suo segretario personale Monsignor Gensman e quindi anche noi oggi partecipiamo al dolore di tutta la chiesa per la dipartita del Papa Emerito ma siamo anche fiduciosi perché lui stesso ci ha detto che andava incontro a Cristo, non andava incontro al nulla. Don Roberto Strano, serbo ricordo indelebile di Papa Benedetto avendolo frequentato durante gli anni di formazione sacerdotale a Roma. Io ho conosciuto Papa Benedetto quando era prefetto della congregazione dell'Adultina della Fede 35 anni fa perché era titolare della chiesa parrocchiale dove io abitavo a Roma durante gli anni dei miei studi nella chiesa Santa Maria Consolatrice di Casalbertone. Ho il ricordo di una persona di elevatissima cultura ma altrettanta pietà e con una forte carica di umanità che magari non riusciva ad esternare con molta facilità però era un uomo veramente grande.